Con il presente intervento in video non voglio assolutamente offendere Luca Contrario, Luca Contrario è un esponente di un'associazione chiamata Giustizia per Taranto che si occupa tra l'altro di difesa dell'ambiente. Luca Contrario però ha pubblicato su Facebook un post in cui praticamente fa propaganda elettorale, esprime il suo voto per Francesco Leo, un candidato della lista Puglia, Solidale e Verde, una lista a sostegno di Michele Emiliano. Lo stesso Luca Contrario poi si dichiara uomo di sinistra e lo è, massimo rispetto, ognuno può essere di destra, di sinistra, di centro, ci mancherebbe. Dice che voterà Emiliano come male minore per sottrarre la Puglia alle destre e fa questo elogio di questo suo amico Francesco Leo candidato in questa lista, Puglia, Solidale e Verde. Ma io dico che ognuno è libero di fare quello che crede, ci mancherebbe. Luca Contrario è un cittadino e può esprimere liberamente il proprio pensiero. Però attenzione Luca Contrario, rischi di creare una strana commissione tra associazionismo e politica e propaganda politica. Tu mi dici e giustizia per Taranto si dichiara politica al di sopra dei partiti, non lo voglio mettere in dubbio, però tu da persona, da esponente di giustizia per Taranto, non puoi da un punto di vista proprio etico fare propaganda esplicitamente per un candidato addirittura mettendo su Facebook, sul tuo profilo, la locandina di questo candidato con tanto di volto e tanto di simbolo elettorale. Tu mi dirai ma giustizia per Taranto è una cosa e la lista elettorale è un'altra. No, qui il discorso è un altro, si rischia una commissione. Quando tu hai una tua convinzione politica ed è giusto che tu l'abbia come ognuno di noi, da un punto di vista etico, della correttezza, della coerenza, dovresti assolutamente evitare di esporti in questo modo, altrimenti, ripeto, si rischia di crearsi un conflitto, si crea un sistema ibrido in buona sostanza. Chi fa associazionismo deve fare associazionismo e basta, non deve fare politica, non deve fare propaganda politica, perché tu, caro Luca Contrario, stai facendo politica a tutti gli effetti. Cosa lecita, per l'amor di Dio, ma ricordati che sei un rappresentante politico e rischi poi con il tuo intervento di creare, come dire, una associazione, una vicinanza tra l'associazione cui tu fai parte, Giustizia per Taranto, e questa lista, e questo rappresentante, questo candidato. Io non metto in dubbio che Giustizia per Taranto sia indipendente. Loro lo dicono, poi uno può crederci o meno, però tu, con questa mossa, certamente infelice, hai creato una situazione di dubbio. Per carità, cosa lecita? Tu puoi fare quello che vuoi, puoi dire quello che vuoi, sei un libero cittadino, ma attenzione, l'associazionismo, se sei un rappresentante di un'associazione importante per Taranto, non devi parlare di politica, o meglio, puoi anche parlare di politica, ma non devi fare propaganda elettorale. altrimenti le cose si commistionano e poi, come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma molto spesso si azzecca. Tu sei un uomo di sinistra, massimo rispetto, lo ripeto, però sei un uomo di sinistra e resti un uomo di sinistra. ma fare quella propaganda proprio, hai fatto uno spot per questa persona, persona che io non conosco, ma sicuramente sarà una persona per bene, che merita, nulla da dire, però attenzione, perché poi si ha, io l'ho messo nella immagine, si ha questa immagine di Luca Contrario, rappresentante di giustizia per Taranto, e Luca Contrario che fa politica. Non va così. L'associazionismo deve essere scevro da ogni contaminazione politica. Giustizia per Taranto dice di esserlo, sarà anche così, ma Luca Contrario così facendo crea nei cittadini degli strani dubbi. Meditate, cittadini di Taranto, meditate. Senza Bavaglio, un programma di inchiesta e di denuncia a cura di Luigi Abate. In onda ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle ore 15 su Telesud, canale 115 del digitale terrestre visibile in Puglia. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre.